Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella clausura del convento dei frati minori Cappuccini, luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio, proprio da questa scala si scende verso la sacrestia della chiesetta antica. Oggi qui per leggervi un passaggio di una lettera di Padre Pio che scrive al suo padre provinciale, al suo ministro provinciale, e racconta qualcosa di particolare dalla sua Pietrelcina. Sappiamo che Padre Pio ha trascorso un bel periodo della sua vita di frate a Pietrelcina, pur non potendo, ma col permesso dei superiori e col permesso del Signore, perché era una strana malattia, gli permetteva di stare bene in famiglia a Pietrelcina e non in convento. Era il gennaio del 1911, quando lui scrive al suo ministro provinciale quello che gli accadeva nel suo spirito, chi dunque padre mio mi libererà da tante tentazioni, da tante angustie, chi mi consolerà, chi mi darà tanta forza da poter resistere come si conviene. Solo un po' di calma, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, la trovo nel pensare, nel leggere i suoi ammaestramenti, ma sono brevi istanti, poiché il nemico è sempre vigilante, e lì, sempre, da capo, le lotte spirituali, in paragone di ciò che vado soffrendo nel corpo, sono assai superiori, sebbene anche le sofferenze corporali si vanno rendendo sempre maggiori. Desidererei, caro Padre, non dico assai, almeno un'ora al giorno di riposo, ma si faccia sempre di me, intorno a me e in tutto e per tutto la Santissima e Amabilissima Volontà di Dio, poiché questo è quello che mi ha retto. Il demonio mi vuole per sé ad ogni costo. Per tutto ciò che sto soffrendo, se fossi men che cristiano, mi crederei al certo di essere invasato. Io non so quale ne sia la causa per cui Dio finora non sia sia mosso a pietà di me col liberarmene. So questo solo, però, che Lui non opera senza fini santissimi, utili a noi. E ora me lo dica, Padre, per l'amore di Gesù Cristo e della nostra bella Vergine addolorata, se nel cuore c'ho qualche cosa, benché piccola, che non piace a Dio, perché con l'aiuto suo voglio strapparla ad ogni costo. Chissà che tale permissione non sia in pena dei disgusti che potrebbero essere ancora in me e senza rimuovere prima questi non si rimuoverà a pietà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.